Ho sparato al cane per difendermi perché mi stava aggredendo. È questo ciò che ha raccontato alla Polizia di Stato di Sciacca l'autore dell'episodio che si è consumato ieri pomeriggio in Contrada San Marco. L'uomo, che ha ritenuto di abbattere l'animale utilizzando una pistola regolarmente detenuta, è stato dunque immediatamente individuato ed ascoltato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza. A chiedere l'intervento della Polizia è stato il proprietario dell'animale abbattuto, un cane di grossa taglia non di razza. Una telefonata al 113 per informare il commissariato che qualcuno aveva appena sparato al proprio animale. Giunti sul posto, gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso. La carcassa dell'animale è stata rimossa dalla squadra Calappiacani. Sono tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di ciò che è accaduto. Indagini che mirano anche ad accertare quale ipotesi di reato si potrebbe configurare a carico dell'autore del gesto, il quale ha dichiarato di avere reagito così per difendersi dall'animale che insieme ad altri treccani pare avesse tutte le intenzioni di aggredire l'uomo.